Il giorno dopo davvero, forse l'episodio più grave che è accaduto qui a Saione, Angelo Rossi, sei arrivato quando c'era già stato il contatto maggiore tra i partecipanti a questa rissa, che cosa hai visto? Ho visto solo la parte terminale della faccenda dove stavano caricandoli la macchina da polizia, però ormai era già quasi tutto fatto, ero stato informato, infatti ero corso subito a vedere anche perché erano proprio qui davanti. È uno di quegli episodi che purtroppo non ci siamo abituati. Si vedono nelle favelas ma non ad Arezzo o una cosa del genere, quindi è una cosa completamente inaccettabile. Il problema è relativo a alcune nazioni subsahariane che si sono stabilite ultimamente qui nell'area di Saione che hanno riportato qua esattamente i problemi che hanno nella nazione originaria di guerre intestine civili, quelle quali si stanno, lo sappiamo tutti, massacrando. Quindi continuano a farlo pure qui, in perterriti. Quindi è un problema che va risolto e secondo me molto circoscritto, perché secondo me, a mio avviso, si tratta di non più di 150-200 persone che creano comunque un vero e proprio, non solo disagio sociale, ma c'è qui proprio un problema di ordine pubblico. Che che ne dica la nostra prefetta e questori che hanno completamente glissato la faccenda, relegandola a un problema strutturale. In realtà questo Saione è un quartiere molto bello, che per essere periferico è tenuto anche bene, ci sono appartamenti di pregio, non è un Bronx e a Saione si vive anche sostanzialmente bene. Quindi è assolutamente falsa. Abbiamo un problema però di ordine pubblico e è circoscritto a questo problema qua e dobbiamo risolverlo. E lo possono fare esclusivamente il questore e il prefetto se cambiano atteggiamento e ammettono l'esistenza di questo problema, perché finché non lo ammetti non lo risolverai mai.